Google Panda è un nuovo algoritmo di Google, diciamo una nuova formula con la quale Google stabilisce le classifiche all'interno dei risultati di ricerca e ha deciso di cambiare le variabili con le quali classifica i siti per chi fa una ricerca su Google. E il 24 febbraio 2011 Google ha fatto questo cambiamento. Questo cambiamento per me è storico, lo hanno chiamato Google Panda e lo hanno chiamato anche Google Farmer Update. Perché? Perché l'obiettivo ufficiale dichiarato da Google e dai suoi esperti per l'avvio di questo nuovo cambiamento di algoritmo è quello di togliere dai risultati di ricerca tutti quei siti che forniscono contenuti sottili, scarsi, che non danno reale valore e utilità immediata al lettore. Quindi Google ha deciso di andare dalle persone normali e di fare una specie di focus group per raccogliere quelle che sono le statistiche delle persone, stabilite dalle persone, su quali sono gli elementi che per loro contano di più quando vanno a valutare un sito, a dire sì, questo sito è un sito serio, questo non lo è, questo è un sito sul quale rimarrei a leggere informazioni, questo no. E ha raccolto tutte queste informazioni da un gruppo selezionato di persone e le ha trasformate in delle variabili che dovrebbero essere in grado di capire se questo è un sito che mette dei contenuti, magari anche tanti, ma solo con lo scopo di monetizzarli attraverso la pubblicità, a differenza di tutti quei siti che invece offrono dei contenuti pesanti, importanti di valore. E quindi il 24 febbraio 2011 ha fatto partire questo update per quanto riguarda il mercato nordamericano. L'11 aprile ha esteso l'efficacia di questo algoritmo a tutti i siti del mondo che parlano l'inglese, non solo quelli che si rivolgono al mercato nordamericano. E pubblicando Master New Media, servendo un pubblico di lettori nordamericani e di lettori di lingua inglese, ho visto subito quali sono i risultati e mi sono interessato subito di seguire questi cambiamenti molto da vicino. E ci sono tantissime novità e tantissimi publishers, tantissimi editori piccoli e grandi online rischiano di avere delle bruttissime sorprese quando Google rilascerà questo algoritmo Panda anche per il mercato in lingua italiana. Questo non so quanto avverrà, se fra qualche giorno, fra qualche settimana che è più probabile, o qualche mese, ma questo giorno arriverà. Quindi quali sono le cose dalle quali ti devi guardare per evitare di essere penalizzato in maniera automatica da questo nuovo algoritmo? Perché la differenza sostanziale, il grande cambiamento con l'arrivo di Google Panda qual è? Che non c'è più una penalizzazione manuale, cioè oltre alle penalizzazioni manuali, adesso Google con questo nuovo algoritmo Panda penalizza tutti i siti che non rientrano, che non passano questo set di variabili nuove. Quindi quali sono le variabili alle quali stare attenti? Numero uno, non ti fidare di quello che dico io, vallo a verificare e numero due sappi che nessuno lo sa ancora per certo. Quindi queste informazioni che ti do io, io le ho derivate dal mio studio, dalla mia analisi, dalla mia ricerca, ma è un set probabilmente più ampio di quello reale che Google sta usando o forse limitato perché nessuno ha la prova ancora concreta e tangibile di quali sono esattamente queste variabili. Quindi sono un po' speculazioni, analisi basate sui risultati e sui cambiamenti che chi è stato penalizzato ha fatto per riportare sulla situazione. Ok sei pronto? Allora numero uno, i contenuti sottili. Quindi non so, c'hai delle vecchie pagine, delle cose che hai lasciato lì da tempo e te ne sei dimenticato, hai cambiato dei template, hai fatto delle ristrutturazioni del sito, hai delle pagine dove hai 10 parole, 50 parole, articoli brevissimi e non sei un giornale che fa solo notizie, ma sei un blog o un sito di informazione. Allora fai una ricerca, fai uno script che vada a cercare queste informazioni, tutti questi articoli, scandagli e misure ognuno quante parole ha e tutti quelli che sono sotto un certo set, se non servono più li puoi escludere completamente usando per esempio il tag no index oppure puoi vedere di rimetterli a posto, aggiungere dei contenuti, aggiornarli. Se ci sono delle pagine dove non c'è niente assolutamente evita di farle vedere o di farle trovare a Google specialmente se nel tempo non ti sei accorto che varie persone vanno lì comunque non trovano nulla. Quindi un altro indicatore importante è quello del bounce rate. Io in passato ho sempre detto ma non stare a guardare bounce rate, adesso invece bounce rate ti direi è importantissimo e cioè la percentuale di persone che arrivano sul sito e poi dopo vanno via immediatamente non leggendo altri contenuti è sicuramente probabilmente una variabile che adesso conta insieme al tempo che le persone restano sul tuo sito. Un'altra variabile che potresti tenere bene in considerazione è la proporzione fra quantità di pubblicità e quantità di contenuti. Cioè tutto ciò che non è contenuto, quant'è rispetto al contenuto? Cioè il 60% della pagina che è fatto da navigazione, banner, sponsor, pubblicità e il 40% di contenuto o è il contrario? Perché ovviamente Google adesso vuole vedere le cose con gli occhi degli utenti soddisfatti. Perché Google per essere vincente di che cosa ha bisogno? Di persone che facendo delle ricerche trovano quello che stanno cercando e sono soddisfatte. Non di persone che trovano tanti risultati ma poi non c'è dentro niente di interessante. Evita contenuti duplicati non quando hai ripreso qualcosa, lo hai pubblicato, gli hai aggiunto valore, hai dato credito, hai fatto link back all'originale e tutto quanto, ma quando in maniera un po' surrettizia magari hai preso delle cose, le hai ripubblicate, facendole passare per tue e in realtà sono contenuti di altri. Questo evita di averlo ed evita di avere tutto ciò che sono contenuti duplicati dovuti a coincidenze o a tua superficialità, nel senso che ci sono delle sezioni di testo magari che vengono ripetute per pagine e pagine sul tuo sito. Queste sono le cose più importanti alle quali stare attento. Cos'altro posso aggiungere? Evita di scoprire dentro il tuo Analytics che un gran numero di persone magari viene sul tuo sito per un tema o per una ricerca che ha poco a che fare con il tuo tema principale, con il tuo core. Quindi se c'è qualcosa che è scritto in passato casualmente e ha avuto tanto successo, prendilo e mettilo su un sito, un microsito, un minisito separato. E poi punta quindi non tanto a ottimizzare il SEO, perché questo potrebbe essere un altro problema, ma a dare dei contenuti di valore. E quindi vai a pulire tutto ciò che hai fatto di SEO e che è un po' troppo spinto, artificioso. Hai usato troppe keyword nei titoli, hai usato troppe keyword nei tags, hai spinto troppo nel testo per puntare ad avere presenza in una certa nicchia con certe parole? Torna a scrivere in maniera chiara, sincera, originale, informativa, perché tutti questi fattori sono quelli che per quello visto io vanno a influenzare Google Panda e possono rischiare di penalizzare le pagine peggiori che hai, ma di conseguenza influenzare negativamente anche il resto del tuo sito. Io sono Robin Good, ci vediamo, ciao!